ehi 2 a 0 ma non io da questo non volevo rire forse questo posto è buono dai che forse stasera ci sarà da mangiare e forse è la tua gamba così che porta fortuna bravo sei fortunato amore pure si è staccato no no mi sembra che sia allendato però questo c'è? tu guarda? si guarda un mio avviso buone guarda un mio avviso